Una città, una maglia, un amore. La città, una maglia, un amore. Per la volata finale mancano solo tre gare alla fine del campionato. L'Alessandria si appresta domani sera alle ore 20 e 30 ad affrontare sul terreno di Moccagatta la gara contro il Renate. Sono stati giorni difficili per il nuovo mister dei grigi Giuseppe Pillon ma di intensi incontri e di lavoro con la squadra per proseguire serenamente questo momento difficile, soprattutto per la spaccatura fra la società e i tifosi. Il neotecnico dell'Alessandria durante gli allenamenti ha provato diverse soluzioni di gioco mantenendo sempre il modulo 4-4-2 ma con una probabile variante in fase offensiva. Con Evaco ci sarà Gonzales in un primo momento. In panchina il bomber Bocalon che farà da staffetta. La formazione comunque mister Pillon la farà solo qualche ora prima della partita e dopo aver conosciuto il risultato di Cremonese e Lucchese. Pegaso sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Il meteo in collaborazione con Vuoi rottamare la tua vecchia stufa? Fino al 30 giugno Punto Fuoco ti offre su tutte le stufe Montegrappa uno sconto rottamazione del 40% montaggio e certificazioni a 165 euro finanziamento a tasso zero in 12 mesi con prima rata a 90 giorni Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo Fino al 30 giugno Punto Fuoco ti offre su tutte le stufe Montegrappa uno sconto rottamazione del 40% ritiro e smaltimento usato assistenza in 24 ore opportunità di canalizzazione detrazione fiscale del 50% e il val 10% Punto Fuoco a Tortona sulla circonvallazione Il comune di Castelletto d'Orba è la sezione Ampi di Castelletto Montaldeo organizzano il 25 aprile alle ore 21 alla palestra comunale Piazza Marconi la proiezione del filmato I ribelli del Roverno di Maurizio Orlando prodotto dall'associazione Memoria della Benedicta canti e musiche sulla resistenza eseguiti da Bernardo Beisso della Banda Brisca letture di brani dei ragazzi delle scuole medie dibattito con il senator Federico Fornaro vi aspettiamo numerosi la proloco di Castelletto d'Orba organizza dal 21 al 25 aprile al coperto presso il palazzetto dello Sport in località Castelvero la festa delle lasagne nelle serate dalle 19.30 domenica anche a pranzo e martedì 25 solo a pranzo lasagne al pesto bianche e verdi al forno o croccanti e altre specialità e prelibatezze come i salamini alla piastra rosbif trippa dolce a cucchiaio vini dei produttori locali tutte le sere si balla con l'orchestra Marineros venerdì 21 esibizione di ballo by Mamborico martedì 25 quarto torneo di calcio proloco